La pillola di oggi riguarda il comprendere di avere limiti. Non vuol dire, voglio fare una precisazione, non vuol dire sentirsi stupidi, non vuol dire credere di essere stupidi. Vuol dire comprendere che magari quello che si sta facendo può essere migliorato. Quello che si sta facendo può non essere il modo ottimale per ottenere risultati, per attirare clienti. E' quello il concetto, fare in modo di capire che a volte le cose si possono fare anche in un altro modo. Comprendere che il mondo gira in modo diverso. Ci sono campionati di videogiochi mondiali, gli e-sports, lo sapevi? Questo porta ad avere un sacco di pubblico che guarda, come guarderebbe un concerto, gente che gioca a un videogioco, in un torneo, lo sapevi? E' un'idea, è un esempio ovviamente, ma rendersi conto che il mondo gira, che va avanti un botto, già ti aiuta a capire che le cose possono essere fatte in un modo diverso. Che ci può essere un modo diverso di fare le cose. E renderti conto quindi di avere dei limiti, ma ribadisco, non perché sei stupido, perché non hai la conoscenza di quello che ci sta attorno, è il primo passo per fare qualcosa di buono, per migliorarti, per migliorare la tua comunicazione, per migliorare il tipo di cliente che si avvicina a te. Possono essere tante le motivazioni. Un cliente si avvicinano a me di solito per una serie di motivi. Può essere per mettere più fieno in cascina, può essere per trovare nuovi clienti, può essere per ottimizzare un flusso, può essere per automatizzare un flusso. Dipende, dipende da cosa c'è in testa, dipende da cosa ti rendi conto che è possibile fare. Il primo passo però appunto è renderti conto che è possibile fare qualcosa e che hai dei limiti. Ma è normale, non c'è niente di preoccupante, non ti devi sentire inferiore. Anch'io ho dei limiti, spesso e volentieri, ma così come non conosco tutti i settori. Su molti settori io sono ignorante, sul settore degli automobili, io mi sento ignorante. Mi piacciono delle marche, ma non ne so nulla di auto, sono abbastanza ignorante in materia. Per il settore delle auto mi rivolgo a chi ne sa più di me, a chi reputo più autorevole. Tutto qua. Capire e avere dei limiti è il primo passo per il successo. Grazie. Grazie.